wei daviano e la madonna dell'uristiano notte face santi refi e lunenzi e nuoda la sagra dei do compari lo compare lo vgb e gipsi e lo compareve pazio pisciapaglia dello cattabarra chiusa modo compari da uno partito per la caccia l'altro partito per la pesca dai insomma che riprova fratelli stivano sempre ticci tocco sempre stivano se vantava c'era meglio guarda capisci un cazzo così col lì insomma si trova nella barra c'è Luigi gipsi ha visto che c'era l'upazzo con la megisoi ma qui se faccia santieremo quasi con il scattamento insomma cominciò a se gira verso la megisoi e pescatori no vagnone vagnone c'è stammane c'è sapete inizio dal mare e rannoglio proprio una lavastra proprio una lavastra me ne vuoi verso il passetto stamane vagnone madonna li pupì di cancerni li perché non obbedico non obbedico lo pisci cancerni a mare oggi arda da poi mi è sposto verso la posta e più bene bene da da quanto una più una nasa da sarà cancerni entra nooo no ti dico li pisci che c'era la barca no tu picca si spugnava proprio e che nel frattempo l'upazzo di costi che raggiavamo quasi santiati i discorsi con l'otica santiato quasi un minchia lo compa Luigi minchia minchia poi se tu lo dici se gira la volta verso quasi osa la capo quasi no che sentene meglio ma se non sentene mo no li indotti cancerni gli scorfini cancerni le vope che a me se quotavano e guarda vagnone tutta roba proprio guarda non ti dico la fine mentre da ma mentre stacca torno ma spero una bomba in più una cernia di 18 metri se gira lo compare pazzo fa sempre quando c'era la borsa parte grazie mani dice ci sono uscite lo fosco a sarniano dai con la scopetta la doppietta la doppia su uso la doppia su vuota dai lo sopra carico dai lo sopra mobile come cazzo si chiama dai che i fucili uno sul ruoto da doppia non sa' se chiama insomma riuscivo a muovere una cima di alberi, sparo due o cinque colpi di cadere in terra, tre o quattro o cinque cacammargiato. Poi mi giro il trumenzo e spero di cadere in terra, roba di ceddi di calciare, tutti gli stiani che facevano, oh la monna, di e poi? E di e poi? No, 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 quello è vero, bocca! Poi mentre stai a me cuccio faccio, cominciò a battere, dai, questi babbagianni, ceddi, strani, ceddi adesso, ceddi adesso, questa è la fine, compare, mi spuccio il pedo che lo cazzo dei muschi, dai, mi parte lo corpo e mi non darà nell'icotro, e la madonna, compare, eh? Mannaggia che t'ha morto, che non curtisci la cernia, a strage, faccio!